L'editore Valentino Bompiani era soprattutto un lettore, anzi uno scrittore mancato. Di se stesso lui in un'intervista aveva detto io faccio dire, anzi cerco gli autori che dicano quello che io avrei voluto comunicare ma in qualche modo non riesco a fare. Bisogna ricordare che Bompiani durante il fascismo ma anche poi durante la guerra e nel dopoguerra scoprì tutta una serie di autori che sono poi diventati dei capisaldi della letteratura, autori anche scomodi, non so ricordiamo Moravia, Vittorini, Umberto Eco che tra l'altro gli fu accanto per molto tempo e poi Camus Steinbeck ma soprattutto bisogna ricordare un retroscena che in pochi sanno perché Bompiani fu quello che tra virgolette inventò il marketing moderno, lui fu il primo a portare dei libri davanti ai teatri, a cercare delle copertine ricercate, insomma a cercare di vendere il libro anche come prodotto commerciale e non solo per il proprio contenuto. Oggi ci sembra scontato questo entrando in libreria ma allora non era così. Ma questo è riduttivo perché alla fine per Bompiani nonostante le copertine eccetera quello che era più importante era il libro, il contenuto. Ecco in questo momento dove l'editoria purtroppo è in difficoltà e dove si pubblicano a volte tante cose che forse non meriterebbero neanche di ricevere le stampe. Ecco ritornare a quella generazione di grandi editori italiani che considerava la qualità come idea sostanziale, ecco forse dovremmo ripensare di più anche al loro insegnamento. Ecco. 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 Grazie a tutti